Ancora sulla sinistra, ancora per Monreal, copertura di Coleman, rischia qualcosa, Chamberlain, apre l'interno destro, cerca il piazzato, non trova il vantaggio, Bins, ancora dentro per Barry, palla sul secondo palo, Coleman, 1-0, Simus Coleman ha rischiato di regalare il vantaggio all'Arsenal, si è rifatto subito, di testa, 1-0, ora Miraias, dentro Miraias, prova a crociare con lui, destro, si è inserito bene, si lamenta Miraias, voglia un tocco, da parte di un avversario, solo rimesso dal fondo, lui c'è Fred, Lukaku usa il fisico prima, la velocità poi, possibile 2.1 in mezzo a Nismith che forse sbaglia il movimento, Lukaku sbaglia il controllo, ma poi lo serve, Nismith di crociare, Nismith, 2-0 al quarantacinquesimo, due volte Everton, forse ha deciso di metterli da Anzi, questo è fuorigioco, cazzo e qui c'è fuorigioco, qui c'è fuorigioco, Chamberlain, morbido per Giroud, oh Giroud, vicinissimo all'1-2, Olivier Giroud, Ancora Ozil, rientra sul sinistro, sempre Ozil, 4 possibiline di passaggio, cerca l'imbucata, Giroud non la mesca, Giroud, Howard non la tiene, Esorla, doppio passo sul sinistro, il tocco di Ramsey, Aaron Ramsey, a secco dalla fine, Monreal, altro cross, il colpo di testa di Giroud, 2-2, Olivier Giroud al novantesimo, ancora vivo l'Arsenal, Grazie a tutti, 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 gra